Siamo sotto il Campidoglio, come vedete sono passati pochi minuti dall'annuncio delle dimissioni del Sindaco Ignazio Marino, da una parte ci sono i suoi avversari, dall'altra chi l'ha sostenuto fino all'ultimo secondo, quelli per Marino Sindaco, qui c'è la lista Marchini, Fratelli d'Italia, sono venuti giù prima qualcuno dei 5 Stelle e dall'altra parte i fan di Ignazio Marino, non c'è molta luce, ma più o meno potete vedere da un lato la sorpresa perché non si aspettavano che il Sindaco si rimettesse dall'altra, quel che resta è la festa che c'è stata, sono in registrazione, qui ci sono i due fronti, oggi c'è stata anche qualche tensione tra i due gruppi, però insomma la serata mi sembra che finisca con più tranquillità.